Ciao a tutti e benvenuti su Gaglio Play, in questo video vi spiegherò come ottenere il trofeo Sporky Trucchi in Batman Arkham Knight. Allora, il requisito di questo trofeo è di effettuare un totale di 3 minuti di derapata con la Batmobile. Ci sono due metodi, uno un po' più lunghino e uno invece molto rapido e indolore. Allora, il primo è intanto che si gira per la mappa con la macchina, basta a ogni curva effettuare la derapata e il problema è risolto. Un altro metodo invece, molto più rapido, molto più veloce, è quello di cominciare a fare una derapata e continuarla a fare per 3 minuti, tenendo premuto l'acceleratore, il freno e la levetta analogica, in direzione sinistra o destra, nel mio caso, come potete vedere, verso sinistra. L'importante è che prima di derapare partiate e facciate qualche metro, altrimenti non vi darà il trofeo se partite subito a derapare. Dovete quindi fare qualche metro, dritto, e poi partire con la derapata e rimanere fermi così per 3 minuti, finché non vi sblocca il trofeo. Bene, per questo video è tutto, per questo trofeo è tutto, io come al solito vi chiedo di lasciare un bel like se il video vi è stato utile, di commentare e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. E ci vediamo al prossimo trofeo di Batman. Ciao! Ciao!